da un lato devo dire che io non ero molto preparato cioè nel senso vi spiego non sapevo bene cosa stavo venendo a fare qua mi hanno detto vienici a parlare della libertà scegli tu un modo per cui declinarla e ho deciso di fare la differenza fra libertà e liceità poi in questi giorni è successa una cosa abbastanza importante a livello nazionale che insomma ha avuto una bella risonanza e allora io ho pensato di raccontare una cosa riferita a questo molto privata molto mia molto personale che non ho mai raccontato a nessuno e quindi sono contento che un bel po di gente se ne sia andata così non la sentirà e che resterà solo fra noi voi non farete la spia vero abbassa la mascherina galliano ok fatto potevo farlo posso farlo ma c'era la sorpresa vedi qualcuno arriva vabbè stavo dicendo buonasera intanto quello che racconterò per favore non fate la spia cioè non ditelo a nessuno perché insomma una cosa un po perché ha a che fare con una cosa successa nel 1993 quella foto lì alla vostra sinistra sono io nel 1992 quando avevo 15 anni guardate che guardate che faccia d'angioletto eh guardate che bravo ragazzo vi aspettereste mai una cosa brutta fatta da questo ragazzo io no io no questo ragazzo che poi vediamo se lo riconoscete in mezzo a quelli beh facile ma no perché c'è anche un altro che mi assomiglia dove sono i bravi sono quello là a destra sempre più o meno in quegli anni a me piaceva vedete la ragazza al centro della composizione daniela infatti eccolo faccio vedere bene qua questa è la festa di capodanno a casa di daniela serata in cui io speravo finalmente di fare la breccia definitiva nel suo cuore ma finì in tragedia come sempre per me perché ho avuto un'adolescenza molto infelice dal punto di vista da questo punto di vista qua ecco vi do solo un aneddoto una misura così capite quanto male andasse ero talmente disperato che a un certo punto un giorno in terza media sono alzato la mano per andare in bagno solo che non sono andato nel bagno dei maschi sono andato nel bagno delle femmine armato dell'arma che ne può più di una spada un pennarello indelebile e sul muro questo tutto l'inchiostro si è scusate con un pennarello indelebile sul muro del bagno delle femmine ho scritto galliano sei figo capito capito cosa stavo cercando di fare stavo cercando di naturalmente fare un'operazione di marketing cioè pensato tutte le ragazze vanno in bagno tutte vedono questa scritta escono dal bagno e dicono chissà questo galliano che dov'è cos'è cosa fa andiamo a vederlo bene che magari se piace a una magari piacerà anche a non lo so naturalmente essendo un quattordicenne con tante difficoltà ho commesso un grave errore imperdonabile cioè non ho cambiato la calligrafia e siccome la fortuna è cieca ma la sfiga lo sappiamo tutti che bene che ci vede che ha 12 decimi la sfiga chi andò in bagno subito dopo di me provate a indovinare che era la mia compagna di banco all'epoca proprio banco insieme cioè era stupendo però lei conosceva la mia calligrafia benissimo perché oltretutto eravamo tipo migliori amici ci scriviamo le letterine con i bigliettini durante no sapeva benissimo come scrivevo andò in bagno vide la scritta tornò dal bagno io un grave difetto non so raccontare bugie zero le so scrivere bene se me le fate scrivere le dico in modo molto credibile ma se me le fate dire a voce mi sgamate subito lei torna dal bagno e mi fa e io sì sono stato io tempo di una ricreazione lo sapeva tutta la scuola perché daniela era era simpatica era bella era tutto quanto ma aveva un piccolo difetto era un po le piaceva diffondere notizie era un po la perpetua di don abbondio ecco quindi lo sapeva tutta la scuola e dopo un qualche giorno fino i miei parenti lo sapevano questo era solo per raccontarvi diciamo la premessa perché vedete quell'angioletto lì così sfortunato così ha fatto una cosa all'età di 16 anni nel 1993 che adesso vi andrò a confessare con molta diciamo no vergogna sì vergogna perché è una cosa veramente brutta di quelle che dici ma dai no tu galliano il professore quello che scrive libri quello che fa tutti quei discorsi sulla morale le cose la vita tu hai fatto questo sì e mi serve raccontarvelo perché perché secondo me è da qua che si parte si può partire per capire dove dove finisce la libertà che cos'è la libertà beh insomma io avevo questo motorino tornavo a casa tutti i giorni da scuola e attraversavo un ponte col motorino e ogni giorno incrociavo questa bellissima ragazza più grande di me avrà avuto 20 25 anni io 16 e mi piaceva veramente tanto e poi diciamo si vestiva anche in modo un po no delle belle minigonne così e quindi a 16 anni sapete come sono gli ormoni dei 16 anni no ce lo ricordiamo non serve che ve lo spieghi vero che l'idea di prendere quel guinzaglio gli ormoni dei 16 anni uno di questi giorni io sono sceso dal motorino l'ho seguita e li ho palpato al culo sì tu galliano il professore sì ecco questa era la cosa che vi pregherei di non dire troppo in giro mi serve per fare questa spiegazione perché perché l'ho fatto ci ho pensato proprio in questi giorni che vabbè lo saprete no è successa una cosa che l'ha portato proprio perché l'ho fatto io come mi sentivo quando ho fatto quella cosa lì sapete come mi sono sentito quel giorno mi sono sentito un figo non mi sono sentito sbagliato non mi sono sentito di aver fatto del male a qualcuno mi sono sentito quasi più libero a coraggioso coraggioso perché per me non c'era niente di illecito nel fare quello che ho fatto mi sembrava una cosa perfettamente lecita tanto non è che l'ho fatto del male anzi dentro di me pensavo addirittura di aver fatto una cosa bella va bene ed eccoci quindi qui alla differenza fra la parola libertà e la parola liceità la parola liceità significa fare ciò che è lecito ciò che la legge ti consente di fare va bene per esempio vado al parco vado al parco e vi metto a ballare in mezzo al parco la legge me lo consente sì liceità lecito sono in treno no suona il mio telefono non spengo la suoneria c'è nessuno che mi controlla diciamo è un po lì borderline però alla fine chi ha fatto un po di viaggi in treno sa benissimo che per tutti questa cosa qua è perfettamente lecita non solo rispondere al telefono ma parlare a voce altissima che ti sentirebbero anche senza il telefono da casa solo con la voce alta che fai perché talmente forte c'è in realtà nella parola invece libertà una cosa un po la parola libertà contiene la radice lib da cui libidine libare libagione nella parola libertà c'è già un senso di piacere la libertà è già solo dirla vero che solo dirla ci dà un senso di piacere infatti guardate questa immagine secondo me è la perfetta perfetta simbologia di cos'è libertà nel senso di piacere noi la vediamo ci dà un senso di piacere vero vedere sto soldato che qualche modo esce dalla dal tracciato fa una cosa si prende la libertà di fare uno sbadiglio siamo sotto il comunismo forse quel soldato adesso non esisterà più perché la foto magari si è diffusa ma vabbè dicevo il senso di piacere bene e questa è una cosa io credo che le parole per definirle sia importante cercare di vederle in base alle parole con cui si contrappongono cioè noi capiamo bene cos'è la luce se pensiamo alla notte noi sappiamo cos'è la gioia se abbiamo conosciuto il dolore la vera gioia la conosci se hai conosciuto il vero dolore no allora proviamo a vedere la parola libertà nelle sue radici a cosa si contrappone il liberus il liber no liberus aggettivo il liber sostantivo è la persona libera che non dipende da nessuno mentre il servus è colui che dipende da un dominus colui che non ha la proprietà di se stesso letteralmente lui è res di qualcun altro lui è la cosa di qualcun altro mentre il liber da cui l'aggettivo appunto liberus è colui che invece non dipende da nessun altro c'è una cosa secondo me molto bella del latino che i liberi sono i figli e qua già ci introduce il concetto chiave che la libertà è anche un legame ti lega a qualcuno la libertà come il legame del figlio lo lega al padre l'essere liberi ci lega qualcuno e lo vedremo ma la libertà fa paura ragazzi essere lì essere liberi richiede anche tanto coraggio eric from ha scritto questa bellissima frase in un libro che se avrete voglia vi consiglio di leggere che si chiama proprio fuga dalla libertà scritto durante i totalitarismi per cercare di spiegare il fenomeno per cui così tante persone andavano dietro a un capo volevano il capo perché lo facevano perché essere liberi fa una paura fa paura perché vuol dire che sei tu che devi decidere e devi prenderti la responsabilità delle tue decisioni e i rischi delle tue decisioni quella poesia magnifica di trilussa numeri no che dice l'uno e lo zero si confrontano con l'uno che dice allo zero tu non vali niente mentre io se prendo altri cinque zeri come te divento centomila è così che si formano le dittature con gli zeri che vanno dietro all'uno la persona di poco valore in realtà che però si mette a capofila e diventa un numero una massa e quando diventa massa è lì che inizia a far paura ed è una massa di zeri che sono servi dell'unico che si prende la libertà di guidarli ma ancora il liber che si va a contrapporre al cattivo anche questa parola è bellissima perché dobbiamo sempre ricordarci che il cattivo è sempre un prigioniero di qualcosa questa retorica che sento spesso per esempio sui bulli il bullo è il cattivo sì ma in che senso nel senso che il bullo è quasi sempre prigioniero di qualcosa è lui che soffre anche lui soffre anzi se si comporta così è perché c'è alla radice una sofferenza una prigionia che sente a casa magari o nel nell'ambiente in cui in cui vive quindi cominciamo a capire un po i confini di questa parola libertà una volta ho scritto la lavagna questa questa frase no ai miei ragazzi di una terza per spiegare questo concetto no del che la persona libera la persona la persona libera è una persona anche egregia cioè che sta fuori dal gregge egregio significa stare fuori ex gregge la persona libera è una persona che non si accoda a tutti gli altri ma cerca la propria dimensione quindi che non è prigioniero di qualcosa e ultima differenza la libertà contrapposta all'arbitrio arbitrio è una parola insidiosa perché arbitrio può essere il libero arbitrio ma occhio se apriamo la tre cani o un dizionario qualsiasi scopriamo che uno dei significati di arbitrio è abuso della propria libertà abusare della propria libertà esattamente quello che credevo di fare io a 16 anni anche se in realtà non lo sapevo stavo commettendo un illecito ma la cultura in cui io sono nato e che purtroppo accidenti ancora oggi la vediamo quanto è forte fa pensare alle persone vero che stai semplicemente abusando un po della tua libertà questa scena è 2021 anzi è l'altro giorno e non è è stato un caso che sia stata ripresa in diretta ma è in realtà quello che accade in tutti gli autobus nei tram ovunque ovunque vediamo questa questa scena per cui uno si sente no dice è lecito non faccio mica niente no di male allora mi prendo questa libertà questa questa licenza di fare questa cosa che va bene e allora come spiegarlo il confine della libertà io mi sono ricordato scusate questo meme mi faceva troppo ridere per loro ve l'ho portato perché diciamo il soggetto qua che si è reso responsabile di questo gesto ha usato come giustificazione il fatto di avere una figlia no ha detto sì ma una figlia e allora ho trovato questo meme preso dal Titanic scusate ma mi sono sentito dimettervelo mi sono ricordato dicevo ecco di una di una lezione o meglio del primo giorno di scuola che ho fatto con la mia attuale terza parliamo del 2019 ah vi ricordate il 2019 che bei tempi sembra dire 2019 non so voi ma a me sembra come dire il 1988 cioè è lontanissimo nel tempo però il primo giorno di scuola della terza che sto per quest'anno saluterò abbiamo fatto questa cosa ho preso uno spago preso questo spago e l'ho legato intorno alla vita di tutti gli studenti e le studentesse e li ho messi in cerchio ve lo devo spiegare con uno schemino se no non si capisce bene e il cerchio era così con una persona in mezzo una persona doveva stare in mezzo tutti gli altri intorno come vedete qui nell'immagine con lo spago legato intorno alla vita va bene era bello lungo quindi faceva un giro se lo giravi intorno poi è stato bello laborioso e lo ammetto ma alla fine ci siamo riusciti fatto questo cerchio cosa volevo cercare di mostrare a loro facciamo un gioco detto quello che sta in mezzo può correre solo a gambe unite e deve riuscire a toccare qualcuno di quelli che stanno fuori questo è il gioco il regolamento è questo quindi per esempio no si spostava di là tutti quanti dovevano spostarsi dall'altra parte il filo non si deve mai rompere se non vince quello che c'è in mezzo lo bisogna fare a cambio dove bisogna cambiare va bene e quindi quello si spostava di qua e di là il cerchio doveva muoversi così ma lo spago l'avete visto ve lo faccio rivedere era bello non era lo spago quello duro non era una corda era uno spaghetto quindi bastava uno strattone un po più forte quello si rompeva quindi bisognava essere molto coordinati per ecco questo secondo me ci ho ripensato proprio mentre venivo qua è l'immagine di quella che è la libertà ricordate la differenza liber servus il liber non è solo la persona che non dipende da nessuno il liber è anche la persona che ha il dovere di contribuire alla difesa della comunità il liber non è responsabile solo per se stesso e per la sua famiglia il liber è responsabile per tutta la comunità e quindi deve per esempio fare quello che noi chiameremmo il servizio ciao non fare la spia sì sì ma basta che non fai la spia servizio militare va bene e allora il cerchio si spostava di qua si spostava di là però dopo un po' naturalmente si rompeva non è mica facile non rompere questo cerchio secondo me perché cosa vuole riuscite a cogliere il senso di tutto questo? il senso è tu essere liberi significa far parte di un legame collettivo e il legame collettivo prevede che tu sì sei libero ma tu devi comunque pensare che questo legame non si deve spezzare e devi difendere anche chi sta dall'altra parte magari vedete la ragazzina che va all'inseguimento si sposta da lontano da te non colpirà a te andrà a cercare qualcun altro ma se tu non ti muovi perdi anche tu se tu non vai nella direzione non scappi nella stessa direzione perdi anche tu perché si rompe il filo e magari il prossimo che andrà al centro sarai tu questo è la libertà la libertà non lo dicevo io lo dicevo uno un po' più bravo di me è partecipazione la libertà significa far parte di una comunità significa che se io faccio qualcosa che secondo me è lecita perché la legge me lo consente sì è lecito ma devo sempre chiedermi è qualcosa che fa del bene alla comunità? è qualcosa che forse farà spezzare quel filo? questa scena fa spezzare il filo, vero? io ne ho tratto un godimento, non so che tipo di godimento può aver tratto lui perché forse è lo stesso di me sedicenne può essere il senso di aver fatto la cosa wow, coraggiosa, non lo so forse è quello ma la collettività? ecco questa è la grande differenza fra libertà e liceità la libertà è ciò che ti fa sentire parte di un vedete? di questo cerchio che si sposta tutti insieme mentre la liceità è semplicemente quello che ti è consentito fare ma che non potrebbe anche non contribuire al bene di tutti ecco ho finito grazie 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 grazie